Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su Brawl Stars Un nuovo unboxing e se si parla di unboxing ormai bisogna essere qua con Rex Adesso l'ha trovato, l'hai trovato al grado 20 Sì, l'ho trovato un po' di tempo fa e non vi ho aggiornato, però adesso ce l'ho e mi piace Tra l'altro fuori c'è un temporale veramente, non so se si sentirà Come sapete, non so, penso lo sappiate, abbiamo tutto, tutto ma tutto il Brawl Pass da unboxare Cioè abbiamo 64 ricompense, no 66 ricompense da prendere E qualcuno a livello 9? Cosa a livello 9? E qualcuno a livello 9? No, però con le monete voglio migliorare la gente a livello 7 Perché ho migliorato Colt, ho migliorato Baroque E magari voglio avere il gadget esempio di Tic, non lo so Adesso apriremo e vedremo Poi c'ho anche le cose del cammino dei trofei Io ho trovato la seconda visita sull'area di Tic Che è la prima E non la seconda Ho trovato la mia seconda che però è la prima Io ho avuto la ricerca automatico Invece ho riprescino, riprescino è meglio Ok, allora, io direi di fare, cioè non so se fare prima cammino dei trofei o prima Brawl Pass Prima Brawl Pass Prima Brawl Pass, ok Ma l'altra volta Però, no, sai invece cosa voglio? No, faccio così Senti, prima Cassa Enorme l'ho già schiacciata Che velole eri messo che non ho visto? Metto Carl Vai, Carl è così giusto di riscaldamento Che tanto ovviamente so di non trovare 50 di Jesse mi ha dato Allora Ho 150 punti di energia E devo decidere a chi darli Non so se darli a Bo o a Shelly Ma tu da dove hai iniziato? Dal cammino dei trofei perché volevo questi 150 punti da qualcuno Poi c'ho ancora una Cassa Enorme 200 monete e una mega Cassa che apro subito Allora, Cassa Enorme 50 Brock Gadget di Brock Ah, io ho bisogno di trovarsi troppo cose Beh, dai Gadget di Brock, guarda che non è male Ma che schifo Ma io volevo trovarsi troppo cose Vabbè Allora, dalla mega Cassa in poi Lo apro dopo E adesso inizierai finalmente Con il Brawl Pass Metti un Brawler Metti un Brawler bello per il Brawl Pass Mh Metto Semino Che è la mia ultima trovata Ah, ok, va bene Allora Intanto metto Brock Perché comunque dobbiamo selezionare tutto E partiamo Vai Ok, allora Ho il miglioramento di Leon Ok Adesso vado un po' veloce ragazzi Quindi ovviamente se vedete che vado veloce Per quel motivo Cassa Enorme 16 Poch Ho 10 gemme da riscatta Quanti skip trovi Ok, va bene Intanto ho trovato 10 gemme Cioè non trovate Le ho Dal Brawl Pass Direttamente Quanti skip 3 skip Però niente Cassa normale Niente Cassa Enorme 3 skip 50 monete Allora ragazzi Vi lascio qua un sondaggio Dovete indovinare La prossima Cassa Enorme Quanti skip ha Secondo te Rex Quanti ne ha Secondo me ne ha 3 Secondo te ne ha 3 Secondo me ne ha No, vabbè Era logico Che ne avesse 3 Perciò non vi metto qua il sondaggio Ma me lo metto Ve lo metto per la Megacassa di adesso Quanti skip ha Secondo te la Megacassa 5 Perciò che non trovi No Vabbè Allora Secondo me Ci va addirittura Ancora peggio E ne trovo 4 di skip Voi mi raccomando Rispondete al sondaggio Qua in alto Vado E 5 Ah In ogni altro Sono un grande Dammi i miei soldi No Non ho diventato nessuno I miei soldi Allora Voglio vedere Chi possiamo migliorare qua Allora Possiamo migliorare lui Posso migliorare molta gente Però No no Nessuno a livello 6 Ce li ho Molti al 5 Io voglio No aspetta Io voglio il gadget di Pocho Quindi lo miglioro al 6 E adesso Vabbè ma va E poi gli do questi 50 punti energia Ok Però non gli bastano Nulla Vabbè però c'è più probabilità Quindi di avere dei brawler Potrei migliorare No ma Leon Non penso che Che riesco a trovare Tutti quei punti energia No aspetta Leon ce l'ho a livello 5 Potrei migliorarlo a livello 6 Ma stai scherzando Oh aspetta I 500 Punti energia Che ci sono a fine Brawl Pass E li do a lui Allora Cassa Brawl E ho trovato Un raddoppio aggettoni Vai Brawl Pass Tutto il Brawl Pass Siamo alla soglia 19 Soglia 20 Mega Cassa Quanti skip? 5 Perché inovini sempre? Però nessuno è luminoso Il problema è che nessuno è luminoso Come tu preferisci quando hai 5 E quando hai 6? No non è vero Tu vuoi proprio averne pochi Ma cosa? Sì sì ma io ti sento La notte dire 50 punti energia Li do a Tizio Gerry Scotti Gerry Scotti assolutamente Gerry Scotti riceverai punti energia Eccoli qua Perfetto Gerry Scotti li ha ricevuti Gerry Scotti Oh Leon No tizio Non ci credo Non ci credo Non ci credo Cosa? Mi sa che posso veramente migliorare lui al 7 Vediamo Sì No invece no Mi manca ancora Ma lui chi è? Leon Ma tu cambia Brawler però Per portarmi fortuna Se non ci credo Che qua non stiamo trovando niente Ma perché su c'è l'allenamento Vabbè Cambio Metto Pam Metti Pam Pam porta solo fortuna Perché è del 2019 Da tipo Dal febbraio del 2019 Che ce l'ho a livello 9 E non ho ancora trovato nulla Quindi in questa megacassa Non troverò niente Cioè questa è La megacassa Quella dove c'è Gelindo È la megacassa Di mezzo Qua ci devo trovare qualcosa Dai Io non ci trovi nulla E ci sono 5 Vabbè Quello ormai è una consuetudine Vediamo Bombardino Penny E il primo Bea E Jesse Basta E la rip Questa? O quel Sicuro? Sì No Quello Quello lo voglio tenere Per l'ultima megacassa Quello lo voglio tenere Per le occasioni speciali Cioè Io non so Chi di voi Abbia visto Il video Più epico di sempre Ve lo lascio Qua sopra Però ragazzi Andatelo a vedere Perché Cioè Non so Non ci sono parole A riguardo Rex Cioè Boris Brutto Miscredente Tu dicevi Io non funziona Allora Poi Poi E poi magari Pensa se stavolta Non funziona Allora Io voglio Che tu metti Metti Frank Ma vuoi mettere Frank? Però Cambia Dole Brawler Ogni Casta Chiap Perché se no Ogni Casta Madonna Ok Sì Devi Se no Non trovo niente Oh Vedi Che così Ho sbloccato Il miglioramento Di Pocho E adesso Posso trovare Il gadget Ok Allora Adesso ti metto La skin PSG Di Shelly Che ho vinto Non ho scioppato Perché chi l'ha scioppata È Cattivo È Cattivo È malvagio E ho un bonus Ti prego Dimmi Che è Il gadget E invece Invece No In che senso Hai il bonus C'era il bonus Quello giallo Di solito Il gadget Invece Non era nulla No In realtà Quello giallo Può essere Solamente No Prima avevo il bonus Giallo Ed era Il gadget Di Brock No Non è vero Guardati il video Dopo Cosa ti devo dire Ok Allora Mi raccomando Io adesso Non vorrei dire Ma se tu Non hai ancora Lasciato un like È proprio un problema Ed è questo Il motivo Per cui io Non sto trovando Nulla adesso Capito Con tutto Con tutto Allora Allora metto Anch'io Jesse Dov'è Allenato Raghi Ma tu non hai Nel gadget Nel upper power Quindi porta sfortuna Allora io metto Bull Che abbiamo trovato Tutto L'altra volta Vai Mega cassa Mega cassa 5 skip E non trovo nulla Cioè io Non ho mai trovato nulla In una mega cassa Ti rendi conto Capite quanto è brutto Vabbè Comunque Migliora anche lui Anche se Purtroppo Non posso ancora Fare nulla Io voglio migliorare Leon Voglio migliorare Leon Cavolo Ho trovato i cosi Di Leon No Ho trovato Piper Ma che schifo Ma cosa che schifo È comunque Un brollerebico Ok Io ce l'ho mancata Con i gadget Almeno non abbandono Brawl Stars Sai che io Avrei abbandonato Brawl Stars Lo sai bene Ecco Quindi Perché è una Di qui Che ha paura E questo è grazie A quello di prima Che ha messo like Poi mi sa Che c'è anche Qualcun altro Che non l'ha fatto Quindi mettilo Subito Allora 200 monete Però io voglio Ah aspetta Fammi Scusami Scusami Signora Piper Ma devo selezionare Anche te C'hai ragione Vieni qua Cioè mia Grado 1 Livello 1 Zero coppe E tu Gadget Abilità stellare Grado 22 532 coppe Beh Un po' di differenza Cambia anche emoji Però Cambia anche emoji Sì Metto Quella triste No Ah siamo tristi Perché abbiamo trovato Piper Invece Io volevo Nani Quella era bella Ho uno skip luminoso Stavolta non ho schiacciato Per sbaglio Cos'è Ma cosa sarà Sì Gadget Gadget di Pocho Gadget di Pocho Sì 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 La tua reazione Ha funzionato Adesso metto Vedete Quella Adesso metto Quella Oh my god Oh my god Perché Mega cassa Del livello 50 Vuoi vedere Che ci sono ancora Solamente 5 skip Ah guarda Ti metto Ti metto Scegli strega Per portarti fortuna Beh 5 skip Sempre Però c'è un bonus Che è un raddoppiaggettoni Però tu scegli strega A me Tienila Tienila Perché io purtroppo Avevo già cliccato La mega cassa Ma con scegli strega Voglio prendere La mega cassa Quella dei 9000 Trofei Schiacciata No Con bordo No Quella C'ho la mega cassa All'ultima Quella di dopo Vado Sì Sì Lo sapevo Che così avrebbe funzionato Oggetti rimasti 6 Allora Abbiamo nel primo 12 Un Tic 20 Un Appenni 25 Ancora nessun luminoso Allora Ancora nessun luminoso Che è l'ultimo luminoso Ed è Attenzione Il gadget Sì Avevi ragione Di Colt Ah il gadget di Colt Sì Ancora nessuno Eccolo qua Tu hai anche l'abilità stellare E quindi cosa vuoi di più Allora Andiamo avanti A spacchettare Tutto il ball pass Cioè ragazzi Io per favore Devo stocchiare Oh Aspetta Finalmente Finalmente Leon Migliorabile Gli ho dato i punti energia Ok Ti metto Mortisferone Mortisferone Sì ok vai Allora aspetta che lo seleziono Lo miglioro Ovviamente Perfetto Che bello L'ho di scelta Ok Vado Mega cassa eh Vediamo quanti skip 6 skip Eh no 5 Però magari c'è un oggetto bonus Potrebbe essere Potrebbe essere Non c'è un oggetto di function Una testa di 5 skip Ah ma io sono stupido Io non ho migliorato Shelly Sì stupido Sì Ok ora c'è anche Shelly Cassa enorme 3 skip Nessuno luminoso Bene Che bello Oh 500 monete Cos'è questo Una montagna C'è Cassa enorme No Non ci credo Non ci credo Tizio Ho trovato Frank Frank Non ci credo Ok Ah tra l'altro ti ho chiamato Tizio Beh ormai No non ci credo No Sono No Sono troppo felice Sono Frank Mi piace tantissimo Io ce l'ho a livello 9 con il gadget Ah si finalmente anche su questo profilo Frank Oh è andato bene è andato bene Però Adesso Arriva il momento di mettere La leggenda Cioè quella che ha fatto la leggenda praticamente Ovvero Horus Bo Bo Horus Ne vai la stessa cosa No la pronuncia Ma Non è vero Cioè anzi Secondo me Horus Bo È più bello di Bo Horus Che è giusto Bo Horus Lo dici tu Vabbè Miglioro anche Bo Miglioro Bo In onore del tuo Bo Horus Quindi Allora Fammi dare questi 50 punti Energia a lui Ok E glieli do Dov'è Eccolo qua Miglioro Dici che non funziona Vediamo quanti skip Vabbè intanto sappi che sono 5 skip Probabilmente non troveremo neanche un oggetto bonus Bene È andata Non so Pensavo di più Pensavo funzionasse Miglioro Vabbè deve provare la casa di 9000 per qui No L'ho già aperta quella Me l'ho già aperta prima E quale che dovevi aprire Questa Quella con Bo Horus Che abbiamo appena aperto Che non è andata male Ma ha fatto skip Insomma Metto a 8 bit 500 punti energia Ma che schifo Ma se non provi Non c'è più una da fare Non so Non so Infatti Cioè In realtà io sono molto contento Perché ho trovato due epici Sì vabbè Frank Frank Vuoi andare contro Frank Il nostro sviluppatore preferito Cioè guardalo qua Pure delle emoji Bellissime Che emoji è? No aspetta Vabbè Vabbè però Allora aspetta Fammi aprire queste casse enormi Che nulla vieta Che ci sia ancora qualche gadget Nascosto Quando io ho trovato Frank Tu cosa? Che bruller hai messo? Eh Buono C'avevo ancora lui Ah avevo ancora lui? Vabbè Allora funzionato Dovremmo essere stati contenti Io apro l'ultima cassa enorme Per salutarvi E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao